I cittadini hanno il diritto di scegliere il proprio leader e la sua squadra, così finalmente il centrodestra si riavvicinerà alla gente e tornerà ad ascoltare davvero il paese. Così il sindaco di Verona e segretario di fare, Flavio Tosi, chi si vuole candidare al leader della coalizione, si sieda attorno ad un tavolo e aderisca a un manifesto di dieci punti sui temi più importanti come lavoro, tasse, federalismo, euro e immigrazione, prosegue Tosi. Potremmo redigerlo entro la fine dell'anno, a quel punto gli italiani potranno scegliere in modo consapevole. Berlusconi non vuole le primarie, le scelte vanno rispettate, ma se si candidasse, secondo me, avrebbe ancora buone possibilità di successo, dice Flavio Tosi. Lui è stato il leader in contrastato della politica italiana per vent'anni e potrebbe ancora mettere a disposizione del paese le sue grandi doti imprenditoriali.